Non c'è scala arbitro, avanti a scarto Ehi, dietro Ehi, arbitro, arbitro Al centro campo il fallo Guardami, guardami Due in barriere Due in barriere Due in barriere Ehi Artio Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pronti a uscire? Pronti a uscire? Artio, fai il passo a destra Fai il passo a destra Artio Pronti? Scatta, scatta Tampi a uscire? Opulio! Rmalto al centro campo Pronti a uscire? Per ARIL Ergular